Oggi c'è un leader dei Forconi che è salito su una Jaguar e c'è un segnalario di un nuovo partito che va a Roma in treno senza scorta che fa della sobrietà in suo modo di vivere Sono segnali di Stato Mi fate andare in piazza a Torino? Alessio, Alessio mi senti? Qui in studio Ricci ha evocato qualcosa che comunque è sui siti L'abbiamo sentito Domani sicuramente sarà sulle prime pagine Forse quella Jaguar se la poteva risparmiare Dicono da studio, forse quella Jaguar lei se la poteva risparmiare Assolutamente la Jaguar non è la mia Quindi del signor Warter Dell'Unto Non possiedo macchine perché questa situazione disastrosa mi impedisce di farlo Quindi non ho la possibilità di esportarmi nel paese perché non ho i soldi E quindi grazie a tutti gli italiani che mi offrono un viaggio Ha chiaramente questo l'argomento di punta per un parassita come quello La Jaguar, la macchia non ce l'ho E la gente mi porta perché gente come lei caro parassita politico Mi ha distrutto a me e a tutti gli italiani Siamo ricordi Allora, a me questa cosa proprio non lo può dire Sto dicendo che la politica deve dare buoni esempi La politica deve dare buoni esempi